Credo che sia la prima volta che accade in 19 anni, non credo che si possano trarre conclusioni generali da questa situazione. Due squadre sono uscite per la regola dei gol in trasferta, bisognerebbe mettere in discussione questa regola perché ormai è antiquata e va cambiata. Io personalmente ho combattuto per questa cosa per tanto tempo. Nelle partite all'eliminazione diretta è importante essere molto efficaci, ma a volte ci vuole anche un po' di fortuna. Non credo che nessuna delle squadre, eccezione fatta per il Barcellona, abbia la sensazione di essere nettamente superiore nei confronti. Credo anzi che sia il Chelsea che l'Arsenal avrebbero potuto tranquillamente passare il turno. Quale criterio utilizzeresti al posto dei gol in trasferta? Ma dovrebbero contare forse dopo i supplementari, la regola è stata fatta negli anni 60 per incentivare le squadre ad attaccare in trasferta. Da allora il calcio è cambiato e questa regola, il peso dei gol in trasferta oggi vale troppo. I rigori forse sarebbero meglio che gol in trasferta? Ma no, credo comunque che forse si potrebbero prendere in considerazione dopo i supplementari come cade in Coppa di Lega qui.